Buonasera, buonasera 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 E poi? Disparlo Ah si? Non è vero? Si Mi cattivano Si, mi cattivano 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 Facile fare le interviste quando si vanno a Marcello Quando va tutto bene Poi perdiamo, silenzio stampa Mi cattivano Ci stampa un cazzo Facile 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 far silenzio stampa Dai un commento sulla partita Un commento sulla partita Un commento sulla partita Oh che è uscita Oh chi è che fa un commento sulla partita di oggi? No comment Ah no comment Quando si perde no comment Mi ha fatto cagare Ah Ho perso merita per me Come devo fare a quanti Anzi Ci hanno fatto anche 3-1 Secondo me è anche stato un buon risultato Debuto di Scadino Debuto sfortunato Panini Ci è andata bene Ci hanno segnato Fino al settantesimo Poi 3 gol in 20 minuti Leone Leone cosa dice? Non dico niente Silenzio stampa Ma Piero Mbarvi cosa dice? Dice niente Dice niente Silenzio stampa Ecco un po' Calvi Silenzio stampa anche lui Come bucciare gli altri stagni è falso Tu inizi da bucciare via da venti Guarda che il silenzio stampa anche lui Si Sicilità in posto silenzio stampa Bocche cucite E Lavorare solo E bucarsi le maniche Situazione da recuperare subito Giovedì abbiamo la possibilità Il posto vicino è Lomelino Il posto vicino è Lomelino Il posto vicino è Lomelino Umidi E ripartire Niente C'è poco C'è poco da dia Molta partita Poca 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 rabbia Ma si può andare avanti qui Si può andare avanti così Il giorno scorso Un sommetto è una vittoria giovedì E poi domenica prossima Domenica prossima Fai i più punti possibili Perchè Il nostro obiettivo Teniamo i piedi per terra I piedi per terra Quello che arriva arriva Sì Va bene ragazzi Mi sentiamo Prossimamente Sì E non lo so La mia seconda parte Niente Ciao ragazzi cari magazzini cari lavori forzati saluto a tutti ciao ragazzi